Bentornati a un caffè dal candidato. Grazie a Giampiero Laurenzano di averci invitato a casa sua, lui è uno dei candidati alla Camera dei Deputati con potere al popolo nel collegio di Napoli plurinominale. Come sempre prendiamo un caffè a casa del nostro ospite, nel frattempo però ci facciamo raccontare qual è la sua storia politica. Ho cominciato quando ero ragazzino, avevo 13 anni, sono andato alle scuole superiori, ho cominciato a frequentare il collettivo di scuola, quindi le occupazioni, il movimento studentesco e poi ho continuato, sono tra gli occupanti dei centri sociali, movimento contro la guerra, movimento no global e quindi sono andato avanti così diciamo tutta la vita. Poi mi sono ritrovato appunto a fare con altri l'ex OPG occupato di Napoli, questa esperienza abbastanza nuova che ha quasi tre anni ormai, li farà quasi in coincidenza proprio delle elezioni e poi quest'ultima avventura, questa qua di candidarci alle elezioni direttamente noi, quelli che non hanno mai guardato con molto favore alla rappresentanza e che invece adesso provano a dar voce a una comunità che esiste, che c'è ma che non ha parola, non ha visibilità spesso e volentieri. Quando si parla di occupazioni c'è tanta gente che storce il naso, anche se forse nella città di Napoli qualcosa è cambiato. Tu hai detto abbiamo sempre occupato gli spazi, ma cosa vuol dire occupare uno spazio? Sì, in realtà il termine occupare per certi versi è un po' forviante perché noi sottraiamo all'abbandono e liberiamo spazi, cioè non ci appropriamo di spazi che stanno messi bene, magari potesse essere così. Ben trovati a questo nostro nuovo appuntamento con un caffè dal candidato, qualcosa veramente al servizio dei bisogni della popolazione e dei territori, è partecipato da un collegio abbastanza ampio che ti vedrà prendere tantissimi caffè, ma d'altronde per un caffè dal candidato il caffè lo prendiamo a casa tua. Io mi accomodo e intendo che tu me lo prepari. Assolutamente sì. E poi quello che chiedo, qual è il scontro che l'hai trovato? Diciamo che non siamo stati nemmeno noi a avere questa brillante idea, ma sono state proprio le persone che partecipavano a quelle che erano le attività che noi proponevamo, ai servizi che davamo ed effettivamente ci hanno detto ma perché non trasformarli in proposta politica? Perché non proviamo effettivamente a dargli piena dignità politica a queste cose, alle pratiche che abbiamo, a quello che facciamo, alle nostre rivendicazioni? Ed effettivamente così come ormai facciamo sempre, quando dal basso ci vengono degli stimoli, ci vengono le richieste, noi proviamo effettivamente ad andare in quella direzione. Il primo step, quello più complicato, è quello del 3%. Noi siamo molto ottimisti in questo senso, anzi addirittura pensiamo che possiamo andare oltre il 3%, possiamo ottenere un risultato importante, questo non perché siamo megalomani, perché effettivamente noi siamo partiti con un appello di un centro sociale napoletano e quindi che pretese potevamo avere? Dopo 4 giorni abbiamo fatto un'assemblea con 800 persone, nell'arco di un mese 150 assemblee territoriali con una partecipazione che ha sferato le 15.000 persone coinvolte, abbiamo fatto un'altra assemblea con 1.200 persone, abbiamo avuto un test importante che è stato quello di raccogliere le firme che gli altri partiti non hanno fatto, quindi questo ci fa sperare bene, ci dà delle ottime, insomma abbiamo un ottimo presagio rispetto a quello che sarà l'esito delle elezioni. Il programma abbiamo detto che si farà col tempo, con le assemblee, con i confronti, ma un'idea chiara su quello che è il principale problema del mezzogiorno, il lavoro, sì, abbattere l'orario magari, ma poi come diamo dignità al lavoro e come diamo lavoro a chi non ce l'ha? Sì, è connesso fondamentalmente a quella che è la questione cardine che tutti sono chiamati ad affrontare, è quella della distribuzione della ricchezza in questo paese, cioè tutti ci dicono che non ci sono soldi, in realtà questa cosa non è vera, in Italia ha una ricchezza privata mostruosa, parliamo di circa 9.300 miliardi, a fronte di un debito pubblico che sembra quasi risorio a quel punto, nonostante sia molto alto che sono 2.200 miliardi, la verità è che questa ricchezza è mal distribuita, ci sono pochi che hanno tantissimo e ci sono molti che non hanno niente, noi dobbiamo ridistribuire questa ricchezza e questo creerà lavoro, il lavoro non lo creano le aziende, è la domanda se ci sono i consumi, se non ripartono i consumi non ci potrà essere lavoro e per far ripartire i consumi bisogna dare i soldi in tasca alla gente che li va a spendere. Dove rosicchierete i punti percentuali per raggiungere il 3%? Da quelli come noi fondamentalmente, quindi ecco io sono un esempio in questo, io sono uno che non ha mai votato alle politiche, quindi adesso andrò a votare per la prima volta, ho votato sempre al referendum, qualche volta alle amministrative ma alle politiche mai, quindi noi andiamo sicuramente a cercare il voto di chi ormai non andava più a votare perché era schifato da quella che era la situazione, era molto disilluso, non ci credeva più, questo quindi come prima cosa. Poi sicuramente c'è un elettorato di sinistra che non si riconosce nel PD, ma tantomeno nel PD2 che sarebbero quelli di Leo, Liberi Uguali, ci sta una parte di persone che invece hanno votato convintamente 5 Stelle, ma la svolta reazionaria che ha dato Di Maio al partito non li ha convinti e quindi sono orfani anche loro, queste persone che siamo quelli che appunto ci sono visti nelle assemblee, sono i nostri elettori tipo e sono quelli che effettivamente ci permetteranno poi di arrivare ad avere una percentuale alta alle elezioni. Il tuo collegio è molto vasto, dovrai prendere tanti caffè tra la gente, dovrai stringere tante mani, dovrai fare tante cose, raccontaci un po' com'è il tuo programma in questo mesetto che ci allontana ancora dal 4 di marzo. Sì, la nostra anche in questo a noi è completamente diversa rispetto agli altri, prima perché non abbiamo soldi e quindi questo è un dato che ci costringe a usare molto la fantasia, ma in realtà di soldi non ne abbiamo perché noi da una parte continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi tutte le attività sociali, mutualistiche, di solidarietà, le lotte che portiamo avanti normalmente e poi effettivamente mettendoci la faccia. Noi a differenza degli altri siamo quelli che ci sono sempre stati al territorio, quindi noi andiamo lì e già ci conoscono, gli altri invece sono gente che se ne ricorda soltanto anni e cinque anni e quindi quando arriva là devono vedere loro come farsi conoscere dalle persone, noi questo problema non l'abbiamo. Se domani dovesse essere chiamati a affiancare chi governa perché magari mancano dei numeri e voi siete indispensabili, che cosa dite? No, accordi con le attuali forze politiche, già l'abbiamo detto, non li faremo mai, ma non per un fatto di, per una pregiudiziale particolare, ma semplicemente che non coincidono i contenuti, hanno contenuti radicalmente diversi rispetto ai nostri, quindi è impossibile pensare a una collaborazione, a qualche forma di collaborazione. Immagino che non possiate mai governare con Salvini e il gruppo di centrodestra, ma se... Penso che stia uscendo il caffè. Ma se arrivasse dall'attuale sinistra una richiesta di aiuto? No, su questa cosa, sinistra, io onestamente non lo so cosa si può intendere per sinistra in questo momento, parte potere al popolo non conosco, diciamo, altri partiti di sinistra che si presentano alle elezioni, o almeno nel senso in cui la sinistra è sempre stata, c'è quella dalla parte dei deboli, che combatte le ingiustizie, le disuguaglianze. Se voi poteste invece dichiarare, mettere il vostro premier nel governo, quindi fare la vostra maggioranza, qual è la prima cosa che si fa alla Camera dei Deputati? Qual è la prima legge che fate? La prima legge che facciamo è la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari. Questa sicuramente sarà la prima cosa che facciamo. Zuccherato? Sì, grazie. Ok, questa è sicuramente la prima cosa che andremo a fare e purtroppo mi sa che su questa cosa alleanze non sono possibili, perché si va nella direzione esattamente opposta, cioè quindi pagare di meno e far lavorare di più. Ci sono i fondi, avete degli esperti che vi possano dare una mano se questa politica è attuabile? Allora, gli esperti siamo noi, nel senso che da una parte abbiamo effettivamente grosse competenze, cioè tra di noi ormai ci stanno persone che fanno gli economisti, che hanno competenze specifiche, che insegnano in ambito accademico, quindi hanno esperienza diretta. E poi soprattutto abbiamo quella che è l'esperienza nostra, cioè di quelli che vivono certe situazioni. Noi gli sprechi sappiamo come combatterli, perché effettivamente li vediamo e già lo facciamo. In questo senso noi non abbiamo necessariamente bisogno di andare al governo. Le più grosse conquiste nella storia di questo paese, dal punto di vista dei diritti, si sono avuti proprio quando non si avevano maggioranze in Parlamento, ma si avevano movimenti molto forti fuori e dentro c'era una sponda. Parlo dello statuto dei lavoratori, del divorzio, dell'aborto, quindi le grosse conquiste che ci sono state in questo paese. Noi faremo esattamente questo. Noi già facciamo il controllo popolare per combattere gli sprechi, per combattere quelle che sono gli abusi che vengono fatti sui posti di lavoro, oppure nel luogo dell'accoglienza. Continueremo a farlo, soltanto è con una marcia in più perché avremo i nostri parlamentari. Voi salite un partito rivoluzionario a questo punto, come spesso a Napoli viene detto da qualcuno? Noi andiamo a essere un partito rivoluzionario, ma è una parola molto grossa e alle persone bisogna dire la verità. Quindi per fare una rivoluzione ci vuole tempo. Ci vuole tempo, bisogna costruire il popolo che questa rivoluzione la fa. che si deve conoscere, deve fare comunità, per poi effettivamente metterla in pratica. E noi lavoriamo in questo senso qua. Noi vogliamo creare le condizioni perché effettivamente si possa aggiungere a una rivoluzione intesa proprio come il cambiamento radicale di quella che è la situazione attuale, gli assetti di potere. Giampiero, grazie mille per questo caffè, buonissimo caffè. Almeno resta che darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Un Caffè dal Candidato. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.